Il 27 gennaio di ogni anno è la giornata mondiale della memoria, una giornata in commemorazione delle vittime dell'olocausto. È stato così designato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1 novembre 2005. Si è stabilito di celebrare il giorno della memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno, nel 1945, le truppe dell'armata rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rilevarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazifascista. Anche quest'anno a Fano, nel segno della continuità, si celebra questa giornata con un consiglio comunale monotematico. Il 2017, il diciassettesimo anno in cui si svolge questa commemorazione. Questa pagina dolorosissima della storia mondiale, ma anche del nostro paese, ci invita a riflettere su quello che è accaduto. Quindi l'esercizio della memoria, ricordare, confrontarsi soprattutto con gli studenti, quindi ecco il consiglio comunale è aperto in particolare agli studenti, quindi con le giovani generazioni è sicuramente molto importante. Infatti quest'anno ospiteremo come relatore Fausto Ciuffi, che è il direttore della fondazione Villa Emma. Shoah e desaparecidos, le madri di Plaza De Maio e la recente vicenda di Giulio Regeni scomparso un anno fa, il tutto è legato da uno stesso filo conduttore, ovvero la richiesta di memoria per far sì che tutto non cada nell'oblio. E queste sono tematiche sulle quali si fondono anche tre giornate dense di incontri e testimonianze organizzate dall'amministrazione comunale. Mercoledì 25 gennaio all'ora 17.30 presso la Mediateca Montanari con un incontro con Vera Vigevani Iarac, portavoce delle Madres de Plaza De Maio, che ci ricorderà un'altra pagina dolorosa del Novecento, quella dei desaparecidos, cioè delle decine di migliaia di scomparsi nelle camere di tortura delle dittature latinoamericane. E lo faremo il 25 non a caso perché il 25 di gennaio è esattamente un anno dalla scomparsa di Giulio Regeni e ci piace che la nostra città abbia l'occasione per una riflessione sulla memoria, quella più lontana nel tempo, quella più vicina e lo possa fare in maniera collettiva con dei grandi testimoni. Ecco, questi quattro giorni saranno l'occasione per la nostra città per interrogarsi, per condividere alcune testimonianze veramente eccezionali e soprattutto per guardare al futuro consapevoli di quello che è stato il passato.